Buongiorno dalla Guardia Costiera di Gella, ci troviamo qui nella sala operativa della Capitaneria di Porto di Gella e oggi parliamo del ferroagosto, di quello che è il giro di boa dell'operazione Mare Sicuro 2016 e i giorni più critici e più caldi di questa operazione. Fino adesso il bilancio è stato abbastanza positivo, grosse criticità riscontrate sono state subito superate perché abbiamo avuto due o tre interventi di soccorso e qualche chiamata di assistenza. Qual è il dispositivo di Mare Sicuro 2016 della Capitaneria di Porto di Gella per questo ferroagosto? Il dispositivo è semplice, ci sono le uscite della nostra motovedette congiuntamente a quelle della Polizia di Stato che pattuglieranno il litorale gelese, quindi la costa di Gella e di Butera con delle uscite giornaliere sia mattina che pomeriggio. Invece il personale a terra verrà impiegato in una doppia squadra rinforzata quindi e pattuglierà le coste di competenza sia mattina che pomeriggio. Il personale comunque reperibile e operativo sempre H24 per qualsiasi intervento di ricerca e soccorso in mare. Il tempo sarà ottimo, quindi sole e prevalentemente quindi soleggiato con la brezza marina che ci sarà nelle ore più calde. Il numero blu 1530 è attivo 24 ore su 24 e con questo vi auguriamo buon ferroagosto.